Gentili telespettatori, buona giornata. La Premier dice fa sorridere un partito che si definisce democratico. Allora, perché dice così la Meloni? Beh, ve l'ho detto anch'io, no? Anch'io spesso dico il partito che si definisce democratico. Sarà mica che la Premier guarda i miei video? Mannaggia, Giorgia! Mica guarderà i miei video? Sei uno di quelli che guarda i miei video? Spesso vedo che delle mie frasi vengono ripetute dalla Meloni. Sarà un caso? Sarà semplicemente una coincidenza? Perché quando Meloni dice un partito che si definisce democratico, io praticamente tutti i giorni in uno dei miei video, quando dico del partito democratico, dico il partito che si definisce democratico. Andaggia! Non è che la Giorgia la mattina come voi si guarda i miei video? Non c'è niente da ridere, potrebbe essere. Le critiche di Meloni di oggi non risparmiano nemmeno i partiti di opposizione. dice, io vorrei dialogare, vorrei diacolare, come diceva Battantuono, no? Mi piace il diacolo, il dialogo, no? Va bene. E così, lei dice, io vorrei dialogare con le opposizioni, ma così la vedo dura. Dice la Premier, dovrebbe far sorridere un partito che si definisce democratico, che dice che devi passare sui loro corpi per rafforzare la democrazia in Italia. In effetti, il riferimento è alla ferma contrarietà del PD e delle altre opposizioni alle riforme istituzionali proposte dal governo. Quelle riforme che voleva la sinistra e che oggi propone la Meloni e la sinistra dice dovete passare sul nostro corpo, no? Riforme che volevano loro. Quali? Non sapete che il premierato e l'autonomia le voleva la sinistra? Come? Che cavolo stai dicendo, Willis? Sto dicendo che il premierato era un'idea di D'Alema e poi era un'idea di Renzi, il mitico Renzi. Lui con il sindaco d'Italia, secondo voi che cavolo era? Eh? Se non il premierato. Il premierato lo voleva la sinistra. E l'autonomia? Ma come? Nel 2001 la sinistra ha modificato la Costituzione, modificando il titolo quinto e inserendo l'autonomia. Quando dicono che l'autonomia è in Costituzione, non dovete pensare che l'hanno messa nel 1948 i padri costituenti. L'autonomia non è stata messa quando hanno scritto la Costituzione. L'autonomia è stata introdotta nel 2001 dalla sinistra. L'autonomia l'ha introdotta la sinistra. La Meloni sta solo finendo il lavoro. L'autonomia l'ha inserita la sinistra. Il premierato lo voleva D'Alema e Renzi. I CPR, per esempio, chi li ha fatti? La sinistra. La sinistra ha creato i CPR, quelli che dicono che in Albarino sono una tragedia. E poi, ce n'era un'altra che ve la stavo per dire e mi è sfuggita. Il blocco navale l'ha consigliato Gentiloni nel 2018 a Salvini e a Conte. Gentiloni del PD, sia gentile, è lui che ha consigliato il blocco navale. Ma vi dico di più, il blocco navale lo ha fatto Romano Prodi nel 1997. Ha fatto il blocco navale Romano Prodi con la Ex-Yugoslavia per poi arrivare all'apoteosi delle apoteosi. Governo di sinistra guidato da D'Alema che fa bombardare la Jugoslavia dai nostri caccia-tornado ogni tempo. Questa è la ciliegina sulla torta della sinistra che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Quindi hanno fatto, secondo quello che loro dicono, molto peggio della Meloni. La Meloni non ha mai bombardato nessuno. La Meloni non ha fatto il premierato, non ha fatto l'autonomia, non ha fatto il blocco navale, ha rifatto i CPR su imitazioni di quelli della sinistra. Quindi la Meloni dice come si fa a definire il partito democratico che dice che bisogna passare sui loro corpi per rafforzare la democrazia in Italia. Quando queste riforme istituzionali le hanno cominciate loro, le volevano loro. E dice la Meloni Ormai non mi stupisco, mi prendo serenamente gli attacchi della sinistra perché ho l'ardire di sostenere che gli italiani dovrebbero avere il diritto di eleggere direttamente il presidente del Consiglio togliendo questo patè e potere alle dinamiche del palazzo. Upalazzuna. E ancora dice chi viene scelto dal popolo per governare deve poterlo fare con un orizzonte di legislatura. Allora, il famoso premierato, ricordatevelo bene, mettetevelo nella zucca, non è un vero premierato. Che cos'è il premierato? Il premierato è prendere tutti, ma dico tutti, i poteri del presidente della Repubblica e metterli in capo al presidente del Consiglio. Tutti. Lasciando il presidente della Repubblica come una figura onoraria che non serve a niente. A niente serve. Questo è il premierato. Ma la Meloni non voleva il premierato. La Meloni voleva il presidenzialismo. cioè togliere tutti i poteri al presidente del Consiglio e metterli in capo al presidente della Repubblica. Dove il presidente della Repubblica diventava sia presidente della Repubblica sia capo del governo. Mentre il vero capo del governo in realtà non serviva a niente. Non poteva fare nulla. Era solo una figura così che potevano anche cancellarla. La Meloni voleva il premierato no, prima il presidenzialismo poi ha detto vabbè, facciamo il premierato. Ma non è il premierato questo. Questo è è l'elezione del presidente del Consiglio alle urne quando andate a eleggere. Mettere la crocetta sul partito la mettete anche sul candidato presidente del Consiglio. quindi il presidente del Consiglio non viene più eletto dai partiti che si mettono d'accordo Salvini che si è messo d'accordo con la sinistra per fare eleggere Sergio Mattarella ma lo eleggi tu nelle urne non Salvini con quelli di sinistra che si è fatto incartare su lo eleggi tu e questo è il premierato della Meloni che non è un premierato è l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Poi c'è qualche piccola modifica ai poteri del presidente della Repubblica perché si cerca di evitare ormai i governi tecnici quindi evitare che ci sia più un governo Monti un governo Draghi un governo come si chiamava l'altro mi ricordo non ci sono più governi tecnici quindi il presidente della Repubblica non può più fare un governo tecnico quindi questo è l'unico potere che veniva tolto al presidente della Repubblica. Grazie a tutti e arrivederci a presto.